E' l'unico rosato che si fregge di una P.O.D.G. La Iani di Ottobio c'è in versione rosato, rosso e riserva. La versione rosato l'abbiamo qua adesso, dopo passeremo anche alla versione rosso. Le uve vengono raccorte in giornale, pressate e fermentate. E' un'imperatura di 15-16 gradi con il cuore. Una volta inizia la configurazione di circa 20 giorni, si è mostrata e si è mostrata.